Si va alla sosta del campionato per gli impegni delle nazionali da bocciati con la speranza di trasformare le tante insufficienze in pagella in debiti da aprile in avanti. Tutti alla lavagna nel Bari che ora galleggia appena al di sopra della zona retrocessione. La sconfitta contro la Sampdoria la quarta nelle ultime cinque partite ha ridotto a due le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e a tre i punti in più rispetto al terzultimo posto che coincide con la discesa diretta in Serie C. Prospettiva shock per chi nove mesi fa sfiorava la promozione in A nello 0-1 del San Nicola. C'è stato un mix di sfortune ed errori commentato così dall'allenatore bianco-rosso Beppe Iachini. Pareggiare questa partita ero già scontento per quello che la squadra ha fatto sul campo, sul piano del gioco, della manovra, del palleggio, delle occasioni, delle situazioni create sia nel primo tempo che anche nella seconda parte della partita. Purtroppo siamo arrivati lì, non siamo riusciti a sbloccare la partita, a metterla dentro, però non abbiamo concesso quasi nulla ai nostri avversari. Siamo stati bravi, attenti, aggressivi dietro, concentrati. Abbiamo avuto le opportunità per passare in vantaggio. C'è stato il rigore, c'è stata la traversa, c'erano altre occasioni su conclusioni o situazioni dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio degli ultimi venti metri. Purtroppo alla fine per una mezza situazione, direi, leggibile, perché eravamo schierati, insomma, abbiamo subito questo gol che ci penalizza oltre misura. L'elenco dei rimpianti comprende il rigore di Sibilli, respinto da Stankovic, la traversa colpita da Puskas e l'errore davanti al portiere avversario dell'attaccante rumeno nel primo tempo. Per la quindicesima volta in questo campionato il 50% delle partite giocate il Bari è andato in svantaggio e spesso non è riuscito a riprendere il risultato. È un peccato non aver sbloccato la partita perché ci avrebbe dato modo di poter ancora di più, insomma, ovviamente, lavorare e giocare dentro la gara una partita con più serenità. Dobbiamo continuare a lavorare perché nelle ultime settimane la squadra ha affrontato squadre, anche importanti se vogliamo, però non ha demeritato. Perché alla fine il risultato è stato sempre bugiardo, lo è stato a Catanzaro, lo è stato a Venezia dove abbiamo avuto occasioni per pareggiare, perché si sono annate, dove deve essere perfetto su tutto per portare a casa delle vittorie, soprattutto essere più bravi, insomma, nella fase realizzativa e finale. Ma recupereremo alla sosta qualche giocatore, qualche ragazzo, quindi sarà motivo per avere qualche freccia in più all'altro. A destare preoccupazione sono però le condizioni di Yaya Callon, subentrato all'ottantanovesimo e colpito duro al ginocchio nel finale di gara. L'attaccante, arrivato in prestito dal Verona a gennaio, ha riportato una distorsione al ginocchio e si teme l'interessamento del collaterale. Potrebbe invece recuperare per la sfida di lunedì 1 aprile a Modena il difensore Emanuele Matino, sostituito per un problema muscolare al sessantaduesimo. Sessantaduesimo